Ci stiamo occupando in questo momento di sperimentare i sistemi di attivazione termica di massa su retrofitte energetici di edifici. Abbiamo creato questo primo edificio sperimentale con il quale abbiamo applicato il nostro sistema e monitoriamo i risultati che stiamo ottenendo. In questo momento i risultati sono estremamente confortanti e si sta procedendo per ampliare la platea di edifici campione su cui andare a sperimentare. In questo momento questo tipo di tecnologia in Italia è completamente assente, esiste qualcosa di costruito nel campo del nuovo, non esiste niente se non le sperimentazioni che stiamo portando avanti per il retrofitte energetico. Abbiamo ottenuto in questo caso edifici che arrivano fino anche ad azzerare i consumi energetici per riscaldamento, mantenendo il residuo unicamente per quanto riguarda la produzione di acqua calda sanitaria e consumi elettrici per illuminazione.